Ora, introduciamo il secondo artista di questa sera, sempre per la categoria dai 14 ai 20 anni, quindi, Gabriele Cavalera! Forza, fatevi sentire! Ciao Gabriele, ora la nostra Giorda ti fornirà di microfono tattico, tecnico-tattico per rispondere alle mie domande di questa sera. Guardalo lì, guardala lì, attenzione, pronto? Aspetta, no è occupato, faccio il 5. Buonasera, quanti anni hai tu per esempio dai 14 ai 20, tu sei nei 15? Scusa, ma come fai ad essere così grosso? Veramente, complimenti ragazzi, hai un futuro in tante, puoi diventare tipo canottiere come dicevamo prima qua, no a parte di scherzi. Che brano ci presenti questa sera? Ancora di Edoardo De Crescenzo. Ancora di Edoardo De Crescenzo. Devo dire che questa sera, guarda già l'applauso è spontaneo perché insomma hanno scelto tutti veramente di qua, la finale non si scherza, bravissimo. Allora, 15 anni, così, visto che sono curioso di sapere, ma da quanto tempo ti, da quando ti è nata questa passione per il canto? A me piace cantare da quando ero proprio piccolo, perché già c'era mio padre che cantava e diciamo mi ha... Ah ok, quindi già in famiglia, sentendo le note del babbo, hai voluto seguire le sue impronte. Magari è qui con noi questa sera, sì. Dov'è, dov'è, vediamo un po', alzi la mano. Buonasera, allora lo lasciamo cantare questo, lo chiamiamo questo prodigio di 15 anni. Va bene, allora, Gabriele, ti lasciamo cantare, Gabriele Cavalera! Dai pure il microfono a Giorgia. E adesso che ti voglio bene io, Ti perdo ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te, anche se incontrassi un angelo direi, Non mi fai volare in alto quanto lei. E notte alte sono sveglio, e mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia, Che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo, venire sotto casa, Tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Antora Amore No, 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 no Grazie Cavalera Gabriele, non ti ho chiesto da che città arrivi perché sono curioso di sapere da che città arrivi Da Nardo in provincia di Lecce Evviva! Nardo in provincia di Lecce, vedi? Oggi ci saranno tantissimi artisti di tutta Italia, ragazzi qui all'Idroscalo questa sera Ti ringrazio, ti ringrazio veramente Buonasera